Io chiamerei anche Ettore Prandini, anche lui neopresidente nazionale della Col di Rettino, che è da lungo tempo amico di caldo. Io rischio di ripetermi e rispetto a tutto quello che è già stato detto. Io penso che sia doveroso da parte mia essere qua questa sera, perché con Claudio abbiamo fatto tante cose insieme, partendo da un progetto significativo che l'ha visto protagonista, anzi quando ho saputo che come a Col di Rettino a Brescia eravamo partiti con un progetto di educazione alimentare nelle scuole, lui mi ha detto che ci dobbiamo mettere poi il pader e dobbiamo allargarlo allo sport e così abbiamo fatto e poi abbiamo anche scoperto che grazie a questa sua ultima iniziativa in ambito imprenditoriale il pader è anche particolarmente utilizzato per i ragazzi disabili, per quelli che hanno delle difficoltà e quindi siete riusciti anche in quel caso a fare un ottimo lavoro, un'ottima sinergia per dare risposta concreta a quelli che sono poi i bisogni delle persone e penso che questo sia il vero carattere di Claudio al di là delle capacità imprenditoriali, ma è stato quello più di qualsiasi altra cosa di farsi sempre carico di quelli che potevano essere i problemi che riguardavano gli altri, o creare opportunità per tutte le persone che gli stavano attorno, quindi non ha mai pensato solo a se stesso come imprenditore, ma ha sempre detto sì, facciamolo noi, ma però potremmo coinvoltare anche Busi, soprattutto per quanto riguarda lo spiedo che organizza una volta ogni tanto ha anche la presentazione dei suoi dipinti e dei suoi libri, perché è anche bello e io mi sono preso un impegno che dovrò prima o poi mantenere con Busi, ma ci arriverò quindi, no, detto tutto questo non voglio rubare altro tempo, io penso che Claudio Capolini rappresenti al 100% la parescianità, abbiamo una persona capace, intelligente, che ha saputo fare, che ha saputo risollevarsi nei momenti di difficoltà e spero che nella nostra provincia ci siano tanti Claudio Capolini. Grazie. Grazie Presidente Brandini.